Momenti di panico ieri sera sulla strada statale 115 a Porto Empedocle nei pressi del centro commerciale Le Rondini, dove un tir carico di arance di ribera si è ribaltato dopo aver urtato una vettura parcheggiata sul ciglio della strada. Si è sfiorata la tragedia in quello che è un punto nevralgico della statale che collega Sciacca con Agrigento. Il camionista, un cinquantenne palermitano, è rimasto ferito ed intrappolato all'interno della cabina guida. A tirarlo fuori soccorrendolo sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. L'uomo è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio e non è in pericolo di vita. Il tir, di proprietà di una ditta di trasporti di Palermo, aveva caricato nella cella frigorifera le rinomate arance di ribera ed era diretto a Busto Arsizio, in provincia di Varese, durante il tragitto e precisamente a Porto Empedocle, il brutto incidente stradale. La dinamica non è chiara, in queste ore i carabinieri stanno cercando di ricostruire cosa sia successo e cosa abbia effettivamente determinato l'incidente. I primi a fermarsi per prestare i soccorsi, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco, sono stati dei militari della Guardia di Finanza, una pattuglia di passaggio. I pompieri hanno faticato non poco per riuscire ad estrarre dalla cabina il camionista ferito, che è stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118. Con l'autogru, il gigantesco tir è stato poi rimesso su strada, sempre dai vigili del fuoco, dopo cinque ore di lavoro.